Continuano le ricerche di Marco Breda, il trentenne scomparso da Bovolenta in provincia di Padova. Da giorni i vigili del fuoco sono impegnati con numerose squadre. Operatori con un gomone dotato di ecoscandaglio stanno controllando il fiume Bacchiglione, con esperti in topografia applicata al soccorso e con i sommozzatori di Vicenza. Non viene tralasciato nessun dettaglio, al lavoro anche carabinieri e squadre della protezione civile. Sul posto il sindaco della città di Bovolenta, che sta seguendo la vicenda da vicino, è in vita a chi avesse informazioni utili a informare i carabinieri. Marco Breda è scomparso da venerdì sera, aveva detto ai genitori di uscire con un amico, ma dopo aver varcato la soglia di casa è sparito. Il trentenne si è allontanato in auto un Opel Corsa. Marco è alto 1,75 m, pesa circa 80 kg, porta gli occhiali e ha un tatuaggio di un leone sul braccio sinistro.